Musica Bella a tutti ragazzi eccoci qui dai due bomber e freestyle come sempre io sono Zapigno E io sono Gigi Lino ragazzi e quest'oggi ci troviamo qua con il nuovo video del skill tutorial Ringraziamo tra l'altro per il video precedente di Neymar che è andato relativamente molto ma molto bene Quest'oggi voi nello scorso video avete scelto le skill di Ronaldinho Andiamo a vederle Ciao 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 Ciao! Ciao Perfetto ragazzi siamo giunti anche quest'oggi alla fine di questo video tutorial sugli skills Mi raccomando le nostre richieste sono sempre le stesse Si ragazzi un bel mi piace un bel commento sulle prossime skill che vogliamo vedere nel prossimo video tutorial Perché le voglio vedere principalmente anche io perché ogni volta che le monto mi scaso da ridere Quindi ragazzi mi raccomando un bel mi piace un bel commento E noi eravamo i due bomber nel freestyle come sempre lui e Zapigno Lui è Di Gigno e ricordiamo che se vuoi essere un bomber Devi iscriverti sul canale dei due bomber Bella e al prossimo video Ciao Allora una volta vuoi fare una Ciao 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 Grazie a tutti.